ecco qua dopo la mega mangiata al ristorante vabbè io mi sono sperato un bel frappè al caffè cappuccino vabbè frappè al cappuccino voglia di qualcosa di duro ora stiamo andando in hotel questa qua è la strada che ci porta a cagarci dentro al bagno al rio can no come direbbe cosa chi era sicuro che piccolo fu piccolo fu ecco il nostro rio can questo palazzo qua che vedete rio can rio can no no è rio can rio can però no rio can è la veneziana che sembra un'imprecazione rio can oh maleducato non si stannutisce in giappone non si stannutisce in giappone mi sembra solo questa cazzata amate 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 ecco qua siamo arrivati questo qui è l'entrata del nostro rio can dalle scarpe direte che ci sono trovati no 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 quelle là sono le scarpe di quello da solo che oggi ora ci togliamo le scarpe e si va su sono troppe le scarpe ok questa qui è l'entrata vai prendete le chiavi se ci sono 13 numero fortunato ci sono? perfetto lì poi c'è la doccia che andremo a farla la doccia che andremo a farla ma è quella di la zona qui non c'è nessuno vado ad inquadrare il bagno questo qui dove ci andiamo a lavare al mattino beh qui i venti qui si prende l'acqua qui c'è la camera nostra qui c'è la camera nostra qui c'è la camera nostra qui c'è la camera 4.12 fino alle 9 fino alle 9 no 4 del pomeriggio fino alle 12 di mezzanotte ah meglio meglio ecco qua stiamo andando a fare il bagno anche non posso riprendere come cazzo ora chiudo perchè è meglio evitiamo figure diverse ora chiudo ora chiudo beh questo qua è il bagno dove si può fare di tutto di tutto di tutto